Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione su Teletruria. Apriamo questa nostra edizione come anticipato nel sommario con il tema caro bollette perché dopo la richiesta di un'assemblea di Coingas sollecitata dal sindaco Alessandro Ghinelli e da Feder Consumatori arriva la proposta di Estra, quella di rateizzare le bollette. Vista la situazione generale di difficoltà delle famiglie e delle imprese, Estra ha deciso di agevolare quanto più possibile il pagamento delle fatture di gas e luce emesse dal 1 gennaio al 31 marzo 2023, aumentando il numero di rate con cui è possibile saldare le fatture di importo superiore a 150 euro. La nuova modalità di rateizzazione è attiva già dalla scorsa settimana. Questa misura, volontaria e straordinaria in un momento eccezionale del mercato dell'energia, si legge in una nota, è adottata per garantire un aiuto concreto ai clienti che fino ad oggi hanno dimostrato regolarità nei pagamenti. La richiesta di rateizzazione può essere fatta da tutti i clienti domestici, esercenti, professionisti e artigiani, nonché associazioni, e potrà essere applicata alle bollette in scadenza o al massimo scadute da 10 giorni. Non sono previste spese né interessi moratori per i clienti. Si possono rateizzare le bollette, con le modalità riportate nelle tabelle pubblicate anche sul sito, con un piano che può arrivare fino a 7 rate nel caso di importi superiori a 2.500 euro. Nei giorni scorsi il sindaco di Arezzo aveva chiesto su sollecitazione di Feder Consumatori. Cambiamo adesso argomento. Sono tornate le prime squadre di volontari che hanno preso parte alle prime operazioni di soccorso dopo il terribile terremoto in Turchia. Nel gruppo di volontari erano presenti anche alcuni aretini tra vigili del fuoco, medici ed infermieri, che sono stati protagonisti di un'opera di grande difficoltà e pari efficacia, che ha trovato il conforto della buona sorte, visto che sono riusciti ad operare in condizioni difficilissime, salvando vite umane. Tra questi, Samuele Pacchi, infermiere, e la dottoressa Sara Montemerani. Ci hanno detto, siete i nostri eroi. Queste le parole riportate dai soccorritori. Un bel momento che ancora una volta ha caratterizzato la generosità e la prontezza di un gruppo di persone che ha dato un atto pratico alla solidarietà. C'è grande fibrillazione in casa del 118 e dei vigili del fuoco per il ritorno dei loro colleghi. E adesso nuovamente la cronaca per raccontarvi di alcuni momenti di paura a Tegoleto, dove tre persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio. Questo è l'abitato di Tegoleto. Proprio nel paese della Valdichiana, domenica sera, poco prima delle 21, sono stati vissuti momenti di paura. Teatro dell'Accaduto, un'abitazione singola. Due uomini e una donna hanno cominciato ad accusare mal di testa e difficoltà respiratorie. La causa era il monossido di carbonio. Le tre persone intossicate sono Babbo, di 62 anni, figlio di 25 e nonna. Sono riuscite a chiamare in tempo i soccorsi, che sono subito arrivati sul posto. Gli intossicati sono stati portati in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Donato. Per il Babbo e la nonna si è reso necessario il trasferimento al policlinico Fiorentino di Careggi, in camera iperbarica. Le loro condizioni sono serie, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta l'ambulanza infermierizzata della Croce Bianca di Monte San Savino, l'ambulanza della Misericordia di Arezzo e una squadra dei vigili del fuoco. L'ipotesi sulla quale sono in corso gli accertamenti è che il monossido sia fuoriuscito da una cucina economica alimentata a legna oppure da un impianto di riscaldamento a GPL. Entrambi sono stati sequestrati. Ancora la pagina della cronaca che questa volta ci porta a raccontarvi dell'ultimo di una serie di furti, questa mattina in una profumeria in piazza Risorgimento, una zona in cui i colpi sono molto frequenti. Questa mattina dopo le 9.30 si è verificato l'ennesimo furto in zona piazza Risorgimento ai danni di una nota catena di profumerie e prodotti per il benessere. Il ladro si è introdotto nel negozio portando via svariate confezioni di profumi molto costosi. Sul posto, poco dopo il fatto, è arrivata la polizia. Non sarebbe la prima volta, ma l'ultima, di decine di incursioni da parte della stessa persona, alcune volte con più furti nello stesso giorno. E secondo quanto riportano le forze dell'ordine, sono frequenti le segnalazioni da parte dei commercianti della zona di piccoli furti che si consumano in pochi secondi anche direttamente dalle vetrine dei negozi di abbigliamento. Una situazione dunque che si verifica spesso ai danni dei negozianti, quasi sempre impotenti di fronte a ladri abili e veloci. E apriamo adesso la pagina politica. È stato ufficializzato il dato della provincia di Arezzo nei congressi del Partito Democratico che inverte il quadro nazionale e regionale. Eli Schlein si è imposta tra gli iscritti al partito. I dati sono inconfutabili, i numeri parlano chiaro. La mozione di Eli Schlein ha vinto nel conto dei voti degli iscritti al Partito Democratico della provincia di Arezzo. Le consultazioni che si sono concluse ieri sera hanno preso parte 1.281 votanti. 1.276 voti validi per Gianni Cuperlo, 76 voti pari al 5,96%. Stefano Bonaccini ha ottenuto 524 voti con la percentuale del 41,7%. Pochi spiccioli per Paola De Micheli, per lei 40 voti pari al 3,73%, mentre Eli Schlein con 636 voti ha sfiorato il 50%. Un dato tra le realtà comunali più grosse che hanno votato in questo weekend. Bonaccini si è imposto solo nel circolo di Sansepolcro, mentre per la Schlein percentuali bulgare ad Andiari 82%, Bibbiena 70%, Monte San Savino 58% e Cortona 54%. In Val d'Arno dopo San Giovanni si è imposta anche a Montevarchi. Solo Terra Nuova ha visto vincere la tesi di Bonaccini. Insomma, un quadro ben delineato che cambia la geografia all'interno del PdA di Tino, che si sposta nettamente più a sinistra. Un dato curioso nella sezione di Civitella ha prevalso Gianni Cuperlo. Nella regione, invece, Bonaccini ha preso più voti. Ora tutto sarà diamandato alle primarie aperte del 26 febbraio. Comune, Fondazione, Arezzo, Comunità, AISA e Gestione Ambientale uniscono le forze per dar vita ad una comunità energetica rinnovabile, che sia però anche solidale. L'obiettivo è quello di produrre energia rinnovabile, con la quale andare incontro alle esigenze di chi fa fatica a pagare le bollette, siano privati, aziende o associazioni di volontariato. E' questo il senso della costituenda comunità energetica retina. E' una fase storica complicata. Quello che abbiamo pensato, che l'assessore Sacchetti ha messo in piedi, è un meccanismo che produce energia e nel produrla la reinveste in quelle realtà o che sono meno fortunate economicamente, oppure che, essendo soggetti di terzo settore, possono, spendendo meno, dare di più. Quindi è un meccanismo virtuoso. Non sarà ovviamente la bolletta zero, questo è impossibile, però sarà la modalità di un surplus energetico messo a disposizione per situazioni o economicamente critiche, oppure per coloro i quali, spendendo meno, ripeto, possono dare di più alla comunità. E' prevista anche una sorta di ristoro ambientale per chi abita vicino all'impianto di San Zeno. L'energia arriva da fonti rinnovabili, in questo caso è il fotovoltaico, questo implica anche un cambiamento nelle nostre abitudini quotidiane. Partecipare alla comunità energetica, quella che realizzerà esempianti e gestione ambientale, è piuttosto semplice. Vi sarà un regolamento, basta farne richiesta e l'utente domestico potrà parteciparvi con una quota simbolica. Ma gli consente però di risparmiare da un 10 a un 30% sui costi della sua bolletta. Però deve imparare a fare una cosa, bisogna cambiare le nostre abitudini, non più fare lavatrici e lavastoviglie, utilizzare elettrodomestici soprattutto la notte, ma dovremmo farlo di giorno, meglio ancora nelle ore più calde, a maggiore quando ultimamente il sole picchia più duro e quindi produce più energia. Perché l'incentivo che venne riconosciuto alla comunità è proporzionale al consumo contemporaneo alla produzione. Andiamo adesso a Firenze. Portone e finestre erano stati imbrattati con vernice gialla e rossa. È stato attivato con urgenza l'intervento di pulizia dopo il blitz del movimento ambientalista sulla facciata del Palazzo del Consiglio regionale. È stato attivato quanto prima un intervento di pulizia straordinaria per ripristinare la normalità sulla facciata del Palazzo del Consiglio regionale. 24 ore prima il blitz del movimento ambientalista Ultima Generazione che aveva imbrattato la parte esterna di Palazzo del Pegaso con vernice gialla e rossa spruzzata da tre attivisti, tra i quali un 42enne aretino. Gli uffici si sono mossi fin da subito interessando la società di manutenzione del Palazzo e coinvolgendo comune e vigili per gli aspetti di transennamento e sicurezza, ha dichiarato il presidente dell'Assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo. Mazzeo è tornato a condannare con forza il gesto degli attivisti ribadendo che dialogo e confronto sono le uniche strade per affrontare grandi temi come il cambiamento climatico. C'è ancora molto da fare, ma la Toscana è la prima regione in grado di produrre energia pulita e verde, ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale. Mille euro il costo complessivo dell'intervento straordinario di ripristino della facciata di Palazzo del Pegaso. Centri abitati, autobus, mezzi di servizio. La regionale 71 presenta insidie continue per chi non si mette al volante in stato. Più che attento. L'ultimo incidente in cui sono rimasti coinvolti un padre con due figli è accaduto ieri sera a Policiano. Vuoi le distrazioni, vuoi i numerosi centri abitati che insistono sulla 71, vuoi le code generate dagli autobus che costringono a continue frenate, vuoi le irregolarità. La strada, inserita peraltro da col diretti anche tra le vie con il maggior numero di animali selvatici in transito, continua ad essere un problema rilevante. La strada, di competenza regionale per delega provinciale, continua a far registrare numerosi incidenti. Di sicuro non è possibile trovare un'alternativa ai bus, che spesso in coppia, seppur di gestori diversi, provocano file e qualche volta tamponamenti per le velocità che variano all'improvviso o per distrazioni, così come i mezzi che portano via i rifiuti. Non resta allora che la prevenzione attraverso pattuglie e controlli e un po' di attenzione in più quando ci si mette al volante, ma di sicuro rimane troppo poco per risolvere un problema annoso. Veniamo adesso ad un tema che riguarda la comunità di fedeli della diocesi aretina cortonese biturgenze. Parliamo della festa della Madonna del Conforto. Sono circa un centinaio i volontari che saranno impegnati nel servizio d'ordine per la gestione del flusso di persone che si recheranno in Duomo, proprio per il giorno della Madonna del Conforto. Saranno impegnati dalle 6 alle 23 durante tutta la giornata della festa della Madonna del Conforto. Parliamo dei volontari della Racchetta e del CISOM, l'ordine di Malta, che garantiranno con il loro servizio la gestione del flusso di persone attese qui in Cattedrale per rendere omaggio alla madre di tutti gli aretini. Abbiamo messo insieme diverse associazioni, a parte le nostre due di cui noi facciamo parte, ma mi viene da citare l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, la Polizia di Stato, i bersaglieri, i vigili del fuoco in pensione e i finanzieri. Ci tengo a citarli tutti, oltre ovviamente al comparto che riguarda il sanitario con la Croce Bianca, la Croce Rossa e la Misericordia, proprio perché è giusto rendere onore al merito di ognuno di loro che si spenderà per la nostra città. L'esperienza del Covid ha lasciato in eredità un modello organizzativo solido. Abbiamo creato una squadra solida, una gestione dei flussi dei fedeli che sicuramente non sarà quella rigida che riguarda il Covid, ma che in un certo senso regolamenta i fedeli che verranno alla Madonna. Il CISOM sarà responsabile all'interno della Cattedrale di tutte le entrate, i fluidi e le divisioni per quanto riguarda la parte relativa alla Chiesa, quindi alle messe, e la parte invece prettamente di visita alla Madonna del Conforto. Mentre invece la racchetta nella persona di Flavio Sisi avrà la gestione e il coordinamento di tutto il Sagrato e quindi tutte le associazioni che gravitano all'esterno del Sagrato. Torniamo alla pagina politica. Ci ha pensato due giorni, alla fine il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, in un post ha replicato in maniera anche colorita la tesi espressa da Marco Donati sul ruolo dei sindaci. Tre giorni fa nel corso della presentazione del patto civico in provincia, Marco Donati aveva polemizzato con quei sindaci che parlano tanto e fanno poco. La frase non è sfuggita a Mario Agnelli che ha rispinto al mittente le critiche dell'ex deputato, ora consigliere comunale di Arezzo. Agnelli non ha certo usato parole concilianti e ha risposto per le rime all'uscita di Donati. Mi sono sentito tirato in ballo al pari di tutti i colleghi sindaci che sono i primi ad essere consapevoli dei problemi che quotidianamente dobbiamo affrontare o dobbiamo gestire, indipendentemente dalla loro competenza comunale, provinciale o regionale. Quindi anche su questo mi sembra che si è fatta un po' di confusione perché quando si parla di strade regionali non è esattamente la provincia. Detto questo, se ci troviamo di fronte a questo problema, il consigliere Donati non lo deve venire certo a dire ai sindaci che sono stati chiamati ad esprimere un voto il 18 dicembre scorso e fino a quel 18 dicembre noi avevamo una provincia con un presidente con dei consiglieri che avevano una delega a differenza di quello che stiamo vivendo adesso dove invece di avere la consapevolezza dei problemi si fanno delle consultazioni perché evidentemente queste elezioni di secondo grado hanno conclamato una sorta di ingovernabilità della provincia e su questo credo che le responsabilità il consigliere Donati sa meglio di altri a chi vanno imputati. Cambiamo argomento, domani si celebra San Valentino e secondo la Fipe Conf Commercio ad Arezzo potrebbero essere più di 4.000 le coppie pronte a trascorrere la serata al ristorante. Cibo e Amore rimane un binomio vincente che porterà ad Arezzo per San Valentino oltre 4.000 coppie al ristorante a festeggiare. Le prenotazioni nel capoluogo per la festa degli innamorati sono tornate vivaci come prima della pandemia conferma il presidente provinciale dei ristoratori Federico Vestri. Forse anche di più perché la gente cerca tutte le occasioni buone per uscire e svagarsi dimenticando per qualche ora le preoccupazioni per i rincari, la guerra e il resto della cronaca. Un San Valentino che farà bene sia agli innamorati che all'economia dunque con una spesa complessiva di circa 400.000 euro solo nel capoluogo con una media di 45 euro a persona. I ristoranti hanno lavorato sodo, con promozioni e menù dedicati e c'è anche chi propone omaggi e gadget alla clientela. Uscendo dalla città poi c'è anche la possibilità di celebrare il 14 febbraio con generosità, come avviene al centro emotrasfusionale di Nottola che ha previsto una seduta TEM dedicata alle coppie. Dalle 8 alle 11.30 sono previsti 20 appuntamenti per donare sangue intero e 6 per la plasmaferesi. Cambiamo argomento nelle colline di Capolona dove vi è anche la presenza di predatori e è morto un cane per un boccone avvelenato. Bibiano a Capolona dopo la triste vicenda dei predatori che avevano attaccato e ucciso molte caprette ritorna ad essere protagonista con un attacco crudele nei confronti di due cani. Uno è morto e l'altro è in fin di vita. Tutto questo per dei bocconi avvelenati. È successo che ieri mattina verso le 10 noi abbiamo visto la mia praticamente sdraiata in terra che tremava tutto e si pensava a un malore quando invece l'abbiamo toccata era già morta, moriva, stava per morire. Tutto ad un tratto mentre si guardava la mia si cercava di rianimarla e cercare di vedere se era viva o no mi sono girata e ho visto Leo, l'altro cane che mangiava un osso con della carne intorno. Si è sentito male anche Leo. Sono scappati e hanno trovato questa roba avvelenata e una ci ha rimesso già la vita e l'altro sta male male. Ma tutto questo è dovuto perché qua su c'è l'invasione dei lupi la gente sono impauriti e cosa fanno? Hanno messo questi bocconi avvelenati. Hai fatto le denunce, hai portato questo osso con questa carne? Si, l'ho portato lì alla forestale di Castelnuovo ho fatto la denuncia, ora loro prenderanno il pezzetto di carne lo faranno analizzare e poi mi hanno detto che verranno con i cani cinofili per vedere se trovano altri bocconi avvelenati e poi terranno sotto controllo il territorio dove c'è sta gente questa gente che non è preparata fa questi danni ancora più dei lupi perché avvelenare un territorio ragazzi non si può Per una improvvisa malattia è scomparso uno dei più bravi cani antiveleno del Parco delle Foreste Casentinesi, il suo nome era Puma È scomparsa a Puma, cane antiveleno dell'unità cinofina antiveleno del reparto carabinieri del Parco delle Foreste Casentinesi presso la stazione della Verna, Valle Santa Puma era in servizio operativo dal luglio 2016 ed ha avuto al suo attivo 471 ispezioni con risultati di rilievo, 200 bocconi avvelenati rinvenuti fino a 25 in una sola uscita Un'operatrice preziosa che ha fornito un contributo di lavoro ed emozione notevole sia in campo, rinvenendo tante esche avvelenate salvando così molti altri animali da morte certa che negli interventi divulgativi presso ad esempio le scuole fino all'ospedale Mayer di Firenze Contributo reso ancora più unico grazie all'affiatamento con il suo conduttore il vicebrigadiere Nicola Gonfiacani Luca, del reparto carabinieri Parco, continua la sua attività con il cane Titan che dal 2017 ha affiancato Puma L'ente Parco e tutto il reparto dei carabinieri Parco delle Foreste Casentinesi salutano un'ultima volta una particolare collaboratrice unica per simpatia e dedizione da tutti stimata e rispettata Torniamo a parlare del giorno del ricordo lo facciamo perché a Sansepolcro è stato celebrato in maniera speciale Una cerimonia toccante partecipata a quella che si è svolta a Porta Fiorentina con l'intitolazione del Largo ai Martiri delle Foibe molti cittadini di Sansepolcro intervenuti a fare gli onori di casa è stato l'assessore alla cultura Francesca Mercati questa iniziativa ha detto sentita e fortemente voluta nasce dalla proposta presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia e Sansepolcro Futura hanno preso poi la parola il presidente del consiglio comunale Antonello Antonelli che ha letto il messaggio scritto dal presidente della Repubblica e poi la parola è stata presa anche dal vice sindaco Riccardo Marzi apprezzato l'intervento del vice presidente del consiglio regionale Marco Casucci Laura Chieli consigliera di Fratelli d'Italia Sansepolcro Futura alla cerimonia presente e commossa la signora Anna Maria Sireni una dei protagonisti dell'esodo all'epoca era poco più che bambina la sentiamo in questo suo ricordo e venivano presi questi denti di un certo tono anche ma gente brava legati uno per uno con la corda e trassinati col pulma per andare a finire all'epoca questo l'ho visto quindi io avevo dieci anni e poi abbiamo visto praticamente il peggio perché io penso non eravamo in guerra non eravamo al trattamento di guerra eravamo in pace quindi abbiamo subito prima la guerra che è stata terribile in Istria ora era l'arsenale era di tutto e quindi era molto combattuta e quindi noi in pace abbiamo dovuto subire tutte queste cose e alla fine la sia di tutte le nostre cose è stato terribile io penso che poca popolazione è molto terribile e per essere italiani la clinica di riabilitazione toscana acquisterà un edificio di proprietà del comune di Terra Nuova allo scopo di potenziare le proprie attività la CRT acquisterà un immobile dal comune di Terra Nuova a bracciolini per potenziare le sue attività di riabilitazione si tratta del padiglione Bigi Forlanini per il quale la clinica ha pubblicato un avviso per la ricerca di tecnici in grado di formulare uno studio di fattibilità tecnico economico l'obiettivo è quello di mettere in relazione fabbisogni, costi e normativa la CRT è infatti risultata provvisoriamente aggiudicataria dell'asta indetta dal comune la struttura va risistemata internamente per renderla funzionale e all'attività di riabilitazione non solo la clinica intende anche riorganizzare l'area esterna per consentire una facile accessibilità di pazienti, familiari e operatori e rafforzare la possibilità di parcheggio l'investimento previsto sfiora complessivamente il mezzo milione di euro sarà un'occasione per riqualificare tutta una vasta area dove sorgerà anche la nuova casa di comunità in collaborazione con l'ASL Toscana Sud-Est ha detto la presidente della CRT Augusta Albarosa Fuccini nonché rafforzare un polo dedicato ai servizi sanitari per i residenti del territorio valdarnese i professionisti interessati a redare lo studio di fattibilità devono presentare la loro offerta entro il 28 febbraio prossimo questo era il nostro ultimo servizio ma prima dei saluti come facciamo di consueto un rapido sguardo alla nostra programmazione questa sera infatti subito dopo il telegiornale un doppio consueto appuntamento prima con Newsline dentro la notizia e poi con la rubrica di approfondimento 9 e 10 informazione ed attualità la serata proseguirà poi come ogni lunedì con Sottorete il settimanale dedicato all'Arezzo e al calcio di Serie D condotto da Carolina Pucci al termine sintesi dell'incontro di pallavolo di Serie A2 Chemas, Lamipel, Lupi, Santa Croce e Tonno, Callipo, Vibo, Valencia questa è dunque la nostra programmazione linea adesso alla seconda parte del nostro notiziario quello dedicato alle notizie sportive con la conduzione di Barbara Perissi grazie e buon proseguimento con i nostri programmi Grazie.